buongiorno a tutti e ben ritrovati nel nostro canale di tecniche cnc e proseguiamo con i nostri tutorial di freecad oggi volevo vedere un paio di cose e quindi una è la realizzazione di un foro filettato l'altra è la realizzazione di uno spacco di chiavetta quindi partiremo da un cilindretto e faremo entrambe le cose quindi come al solito noi clicchiamo su crea nuovo automaticamente ci porta nel nostro ambiente start e noi come prima cosa entriamo nell'ambiente part che è quello che utilizziamo visualizza origine degli assi così abbiamo un'idea di come siamo disposti nel piano e andiamo a creare un cilindro un cilindro che automaticamente cliccando ci viene creato delle dimensioni raggio 2 noi clicchiamo aggiungiamo gli uno zero se non è troppo piccolino quindi raggio 20 e lungo 50 mm eccolo qua come vedete lui è disposto sull'asse z io clicco il pulsante centrale e me lo guardo e me lo muovo come voglio io oppure lo metto in vista isometrica allora ci sono vari modi per creare i filetti in freecad io opto per quella che è la strada a mio avviso più semplice perché noi possiamo crearci un'elica in un altro ambiente ovviamente che si chiama part design possiamo creare un triangolino e farlo rivoluzionare lungo l'elica bello funzionale ma complicato è una cosa che deve sapere un designer qualcuno che comunque si occupa principalmente la grafica in 3d noi siamo tornitori perché il nostro canale è riferito alla tornitura quindi ciò che dobbiamo fare è ottenere il nostro foro filettato quindi ragioniamo come si ragiona su un tornio e diciamo che noi all'interno al centro di questo bel cilindro diametro 40 alto 50 mm vogliamo fare un foro filettato m12 foro lungo 30 filetto lungo lungo 20 quindi cominciamo col fare un preforo facciamo un preforo da 10 per cui per fare un preforo dobbiamo creare un cilindro se noi andiamo sul primo cilindro e clicchiamo la base spaziatrice vedrete che sparirà se la riclicchiamo vedete che riapparirà facciamolo sparire un secondo e concentriamoci sul cilindro numero 2 anzi facciamo una bella cosa così capiamo subito come muoverci andiamo sul cilindro numero 1 premiamo il tasto f2 e lo chiamiamo corpo in modo tale che lo identifichiamo una volta per tutte poi quando ci sarà una fusione cambia la nome e dovremo rinominarlo lo facciamo sparire con la barra spaziatrice e ci concentriamo sul cilindro 001 abbiamo detto che è un preforo diametro 10 lungo 30 millimetri come vedete non rispecchia esattamente la forma di una punta perché è piatto ora a seconda di quanto vogliamo essere precisi possiamo anche andare a crearci un cono vedete che lo ha creato qua ok questo è il nostro cono facciamo sparire un secondo il cilindro 1 ecco il nostro cono e dargli quelle che sono le dimensioni di quella che è la punta del nostro della nostra punta elicoidale con cui siamo andati a fare il preforo per cui andiamo a evidenziare cono vedere che il raggio 1 in questo caso è il più piccolo e noi lo portiamo a 5 raggio 2 è questo e noi lo portiamo a 0 perfetto altezza la andiamo ad abbassare o ci misuriamo una punta o poco importa diciamo perché è più che altro una questione grafica però noi se noi adesso andiamo a vedere il cono vedete che è alla base della nostra punta cosa facciamo abbiamo visto che l'asse blu è la z che la direzione della freccia indica la direzione positiva e che il nostro cilindro è alto 30 millimetri base del cilindro del cono corrispondono benissimo evidenzio il cono vado in placement vado in posizione vado in z e ci scrivo 30 millimetri adesso nell'abilitare la visibilità anche del nostro cilindro abbiamo la forma della nostra punta andiamo ad abilitare il cilindro col tasto control premuto andiamo ad abilitare il cono e premiamo questo tastino eseguo un'unione di varie forme perfetto abbiamo la nostra punta il nostro perforo fatto andiamo ad abilitare il corpo e come vedete adesso sono sovrapposti per far sì che qua si generi un foro vado prima ad abilitare il corpo che voglio che resti visibile e poi il corpo che sia che autonominato fusion che voglio sottrarre tasto control clicco il tasto sinistro esegue un taglio di due forme ed ecco che abbiamo un foro ok a questo punto noi col tornio abbiamo due opzioni o entriamo col maschio per una lunghezza di 20 millimetri o meglio ancora se vogliamo fare un lavoro fatto bene andiamo con uno svasatore a creare uno smusso di uno per 45 uno per 30 uno smusso comunque male non gli fa cosa faccio io in freecad clicco col tasto sinistro sullo spigolo interessato clicco sull'icona smussa gli spigoli vedete che automaticamente mi dice guarda io qua di spigoli ne ho quattro tu hai cliccato su questo io ti voglio fare uno smusso da un millimetro che qua posso andare a modificare in più o in meno oppure posso farlo a lunghezza variabile quindi ho le due possibilità quindi fare uno smusso non uno per 45 ma uno per due per esempio nel fare ok abbiamo generato il nostro musso bene come facciamo a creare il filetto 12 lungo 20 molto semplice andiamo nell'ambiente fasteners ambiente fasteners che in fase di installazione voi non troverete per creare l'ambiente fasteners si va in strumenti addon manager e vedete che avete un sacco di possibilità questi si chiamano gli work banks scusate la pronuncia andate a cercare e lo avrete perché gli scarichi in automatico il programma da internet l'ambiente fasteners eccolo qua io ho install update perché ce l'ho già installato voi probabilmente avrete solo install vediamone uno che non ho installato no install update quindi fastener install update close ecco please restart free card for change to take effect quindi in questo caso se siete già arrivati qua salvate e rientrate ecco che nel cliccare fastener voi qua vi trovate una serie illimitata di fastener quindi viti dadi e rondelle pian piano si imparano a memoria sinceramente io non li ho ancora imparati a memoria comunque si clicca su una vita e su un hexagon ball qualsiasi nel cliccarlo vedete che lui mi crea una vita in questo caso all'incontrario che noi dovremmo andare a modificare ne ha create due a dire la verità una la cancelliamo e l'altra è questa vedete che la vita qua non è filettata 3 add false no vero dategli un secondo ed ecco che abbiamo il nostro bel filetto possiamo andare anche a posizionarla a girarla e a farne un po quello che vogliamo innanzitutto abbiamo detto che noi vogliamo una lunghezza del filetto di 20 millimetri eccola qua diamo il secondo e si aggiornerà ecco che è diventato 20 millimetri abilitiamo la nostra vite e andiamo in placement angolo in questo momento a 0 gradi asse allora io voglio capovolgere questa vita per capovolgere dovrò farla ruotare di 180 gradi rispetto all'asse x quindi porto a 0 l'asse z e porto a 1 l'asse x dopo di che qua andrò a scrivere 180 gradi bene mi sembra abbastanza chiaro comunque eventualmente adesso ve lo mostro il fatto che lo 0 della mia vite non è qua bensì laddove comincia il filetto quindi andiamo in placement e andiamo a muoverci lungo l'asse z vedete che il mio 0 è questo cosa ci manca ancora beh ci manca il filetto corretto vedete che qua è una m6 andiamo a selezionare una m12 ecco che la vite mi cresce ed ecco che nel momento in cui io premo il corpo che lui ha rinominato chamfer perché l'ultima operazione che ho fatto io è stato uno smusso e la vite devo prima tornare in part quindi chamfer contro il vite eseguo un taglio di due forme ecco che noi qua abbiamo il nostro foro filettato come vedete c'è anche la svasatura della vite ok ha fatto tutto a me non piace quindi torno indietro modifica annulla e cosa faccio vado a portare la lunghezza della vite a 25 già 25 perché con una m12 lui autonom automaticamente parte da una lunghezza 25 quindi volendo avevamo avevo sbagliato vado in placement asse pardon posizione asse z lo porto in meno di 5 millimetri rieseguo la sottrazione abilitando prima chamfer tasto contro abilito la nostra m12 che al gambo lungo 25 ma sporge 25 millimetri dal mio alberino ed eseguo un taglio di due forme ecco che il filetto adesso è perfetto e come vedete qua in fondo gli ultimi 5 millimetri sono ancora il mio preforo da 10 perfetto come vi dicevo all'inizio del video ora voglio fare uno spacco di chiavetta lo facciamo lungo 30 millimetri perfettamente centrato nel nostro alberino da 50 millimetri quindi facciamo uno spacco di chiavetta da 8 uno spacco di chiavetta da 8 profondo 5 cosa ci servirà ci servirà una forma cubo eccola qua che noi andiamo a creare lui dove ce la crea ce la crea esattamente sull'asse andiamo a selezionarla abbiamo detto pacco di chiavetta largo 8 quindi larghezza in questo lui dice lunghezza perché ovviamente se la possiamo se possiamo lavorare secondo tutti e tre gli assi lo mettiamo largo 8 ma lo spostiamo lungo l'asse x di 4 millimetri in modo tale ad andarlo a centrare vedete che se io vado in più si sposta verso la freccia quindi andrò in meno e si sposta dalla parte opposta della freccia ecco che il nostro il nostro cubo è perfettamente centrato rispetto all'asse y abbiamo detto che voglio che rispetto al diametro la profondità della nostra chiavetta sia 5 millimetri il nostro raggio è 20 quindi cosa faccio mi sposto verso più con l'asse y se io mi sposto di 20 millimetri come vedete sto usando la rotella del mouse andrò tangente all'esterno io ho chiesto ho richiesto una profondità di 5 torno in meno di 5 millimetri 5 millimetri come vi ho detto prima voglio una lunghezza di 30 millimetri quindi vedete che qui me lo alza ok qui bisogna sfruttare un po la tridimensionalità andiamo a fare la lunghezza della chiavetta 30 millimetri lo voglio perfettamente centrato quindi voglio 10 millimetri di qua e 10 millimetri di là vado in posizione asse z il blu 10 millimetri perfetto voi sapete che le chiavette si fanno con una fresa candela qua noi abbiamo uno spessore da 8 quindi dovremo andare a modificare questi smussi col contro abilito 1 e 2 smussi guardate cosa succede la prima volta che fai questa operazione cosa dici beh è 8 millimetri faccio due bei raggi da 4 millimetri e in realtà non è proprio così vi spiego subito il perché andiamo a scrivere 4 ok vedete che sparisce tutto modifica annulla freecad a fare due smussi 4 più 4 in uno spazio da 8 dice mi manca una tangente allora lo si inganna quindi si abilitano entrambi gli angoli si va a selezionare smusso e si va a scrivere 3,99 ok lui ha un misero centesimo per fare lo smusso ed è bello che è fatto sia di qua che di qua smusso 3,99 ok ora cosa facciamo ora abilitiamo questo corpo possiamo farlo sia da qua sia da qua e fillet che è questo dopodiché sottrazione di corpi ecco che abbiamo fatto lo spacco di chiavetta ora abilitiamo prendiamo quest'angolo qua e gli diciamo beh vorremmo mica lasciare uno spacco di chiavetta a spigolo vivo lo smussiamo a 0,5 vedete che automaticamente pur avendo selezionato un solo spigolo lui mi ha smussato tutto il contorno ovviamente ci mette un po del suo freecad e lo fa anche abbastanza bene ecco che abbiamo fatto il nostro albero con foro filettato albero una parola grossa il nostro cilindro con foro filettato e spacco di chiavetta già mettendo insieme queste piccole tecniche siete e quelle ovviamente fatte affrontate nei precedenti tutorial siete già in grado di fare il 90 per cento dei pezzi che vengono che escono dalle vostre macchine guardate adesso basterà col tasto control andare a selezionare tutti gli spigoli selezionare spigolo uno no dai uno è poco esageriamo facciamolo da tre e abbiamo due begli smussi da tre perfetto io spero che questo tutorial sia stato di vostro interesse se così è stato come sempre mettetemi un like iscrivetevi al canale altrimenti fate finta di niente buona giornata a tutti